A più di 12 ore dalla partita che si è svolta ieri sera in quella del Pireo tra l'Olimpia e l'Olimpia-Cos, siamo a commentare appunto la partita che lascia molto perplessi, almeno per quanto mi riguarda mi lascia molto perplessa sicuramente per quanto riguarda la fase finale. Amici, buongiorno, bentrovati al commento per l'Olimpia Improvvisa Passione per la partita appunto che dicevamo, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto per non perdervi nessuno delle nostre proposte, questa così come quelle che troverete e a cui potrete assistere nei prossimi giorni e ce n'è veramente per tutti i gusti. Dicevo, l'Olimpia-Cos e l'Olimpia 79 a 74, così come si vede dalla grafica, ed è una partita che sicuramente si può definire importante da parte dell'Olimpia, nel senso che almeno fino a un minuto e mezzo dalla fine l'Olimpia era sulla parità, 74 pari, dopo aver rincorso praticamente per tutta la partita o comunque nella seconda parte di incontro sicuramente l'Olimpia si è trovata in difficoltà, anche nella prima parte devo dire, perché già nel primo quarto c'era stato un discreto vantaggio dei greci, ma l'Olimpia aveva saputo reagire, tanto che addirittura il primo quarto è terminato 18-19 per noi, se non erro, mentre nel secondo quarto si è già vista la superiorità dei greci almeno ieri sera, perché comunque questa grande superiorità in generale, quindi tirando le somme della partita, quindi considerando tutti i 40 minuti, sì c'è stata perché hanno difeso forte, hanno un attacco sicuramente che ha funzionato molto meglio del nostro, con dei cecchini infallibili soprattutto dall'arco, vedi William Goss, vedi World Cup, vedi Peters, vedi McKissick, insomma tutti i grandi campioni che può annoverare tra le sue file l'Olimpia-Coss, mentre noi sappiamo bene in che stato di emergenza ci troviamo, ecco il loro attacco ha funzionato bene, la loro difesa è stata molto efficace e molto forte e noi invece non abbiamo funzionato molto bene dal punto di vista realizzativo, però ce la siamo giocata fino in fondo e questo è già un segnale che probabilmente se avessimo giocato questa stessa partita un mese e mezzo fa avremmo riportato che ne sono una sconfitta di 30 punti, non lo so, questo non lo sapremo mai, è facile dire se ma, mai se e ma non ci portano da nessuna parte, ad ogni modo basandosi su quello che abbiamo visto ieri sera, sicuramente appunto nella fase centrale, soprattutto il terzo quarto è stato un po' buttato via dall'Olimpia, ma il parziale del quarto quarto ci fa capire 16-24 per noi, quanto l'Olimpia abbia dato fondo a tutte le sue energie, dato fondo a tutte le proprie capacità per provare a rimettere in piedi la partita e infatti dallo svantaggio di meno 15 e dico meno 15, ci siamo trovati sulla parità, perché comunque il massimo vantaggio greco è stato appunto di meno 15 e l'Olimpia piano piano, un tiro alla volta, un canestro alla volta, un fallo alla volta, subito, si è riportata lì, siamo riusciti ad impattare su 74 pari, dopodiché sicuramente la scelta sbagliata a mio modo di vedere di Tonut, di quella tripla da 9 metri, che secondo me è stata un po' buttata via e infatti si è schiantata sul primo ferro, è vero che Tonut era in fiducia, è vero che Tonut aveva fatto molto bene, dopo lo vedremo nelle statistiche, però si poteva pensare di giocare in modo diverso quel possesso, poi magari non avremmo fatto canestro lo stesso, però io l'ho avvertita come una palla un po' buttata così, un possesso affrettato, concluso in modo affrettato, dopodiché arriva il momento di fronte e i greci hanno trovato due canestre, uno da tre dall'angolo di William Goss, che sinceramente è un canestro ammirevole e un canestro da due che non mi ricordo neanche chi l'ha segnato, perché comunque si capiva che dopo lo sforzo profuso su quel tentativo di recupero dello svantaggio, è andato a buon fine peraltro, l'Olympia forse poteva essere un attimo in debito d'ossigeno in crisi e probabilmente aveva solo le idee annebbiate, infatti è arrivato il time out, il time out che ho scritto nel titolo di questo commento ha un time out dalla possibile impresa. Ora il time out sta facendo abbastanza discutere i tifosi e io mi schiero dalla parte di chi lo ritiene abbastanza incomprensibile il time out e la gestione di questo da parte di Messina, nel senso che Messina ha chiesto ai suoi giocatori di giocare con il cronometro, di giocare sui 24 secondi, quindi di prolungare il più possibile le azioni per provare a difendere la differenza canestre che ci portavamo dall'andata. Ricordiamoci che il 17 ottobre Olimpia Costa era finita con un vantaggio di 12 punti a favore di Milano e Messina evidentemente ha pensato bene di mantenere il vantaggio, non si sa a che scopo visto che noi siamo molto indietro all'Olimpia Costa e se non vinciamo queste due o tre partite che ci separano dall'eventuale arrivo in parità con l'Olimpia Costa, credo che sia anche abbastanza inutile difendere la differenza reti, ma proprio per logica voglio dire preoccupati di vincere le partite, dopo ti preoccuperai della differenza reti. Questa è una cosa che sinceramente non ho capito, anche perché a un minuto e poco più dalla fine, almeno 5, dopo che hai un'inerzia è vero che avevi subito altri 5 punti, quindi eri comunque su 79 a 74 perché dopo il time il risultato non si è più modificato, è vero che avevi preso l'inerzia del recupero che ti aveva portato al pareggio e avevi subito questi 5 punti però in un minuto e 14 secondi mi sembra, può succedere di tutto, puoi magari provare a giocare veloce, puoi provare a fare, poi ne subisci altri 10, va bene però almeno ci hai provato, non mi lasci così appesa come una scimmia con l'idea, sono arrivata fino a qui e adesso però mi tiro indietro, cioè è un'opera incompiuta, cioè è una cosa sospesa e a me le cose sospese, io parlo per me, poi per carità Messina ne capisce sicuramente più di me, è molto più oculato e esperto della sottoscritta quindi io non mi permetto di dire Messina, vabbè insomma posso dire che a mio modesto avviso è stata una scelta incomprensibile per quanto mi riguarda, ci sarà chi la pensa diversamente, anzi se chi è alla visione di questo commento vuole esprimere il suo pensiero anche differente dal mio, sarò ben felice di leggere i vostri commenti sotto il commento stesso, sotto il video di questo commento per capire magari anche le posizioni perché c'è chi dice invece che non è stata così astrusa la decisione di Messina, io non capisco su quali basi però sono pronta a comprendere, a provare a comprendere le posizioni opposte alla mia. Ad ogni modo poi alla ripresa dopo il time out mi hanno avuto occasione e due azioni perché comunque in un minuto e 14 secondi c'è poco poi da fare, mi hanno avuto a disposizione due possessi che sono andati a finire nel nulla con uno Shabazz che ha tirato da fuori ma il pallone ha scheggiato forse il primo ferro e la seconda azione forse non me la ricordo nemmeno perché ero veramente irritata e non lo so perplessa, contrariata, non saprei neanche esprimere lo stato d'animo perché dopo che senti Messina a dire così l'allenatore ma poteva essere gli Asichievic, poteva essere i Tudis, poteva essere qualsiasi allenatore che avesse fatto una richiesta del genere alla squadra. Questa è una richiesta per non per i vincitori, non per chi ambisce a vincere, non perché ha sette di vittoria, questo qua è un messaggio secondo me sbagliato. La squadra come fa a credere in se stessa? Come fa a pensare di poter recuperare anche gli eventuali svantaggi? Se poi quando ci troviamo sul meno 5 e abbiamo recuperato ben 15 punti, tu allenatore mi chiedi di giocare per la salvaguardia della differenza canestre? Non lo so, è una cosa che veramente non capisco, vabbè questo l'abbiamo abbondantemente detto, è spiegato quindi possiamo andare oltre, c'è da rimarcare la buonissima prova degli italiani Tonut, Flaccadori e Bortolani che è entrato a messo tre triple come se fosse un giocatore di cent'anni, con un'esperienza di cent'anni Neurolega e questo fa ben sperare, ecco dovrebbe essere impiegato un po' di più anche alla luce dell'inspiegabile calo e corpo avulso dalla partita che è stato ieri sera quello di Devon Hall. Devon Hall non è stato incisivo in attacco o in difesa, non lo so, magari avrà anche fatto il suo, non lo so. Però se tu hai bisogno dei punti di tutti, soprattutto sapendo che Hall può segnare una determinata quantità di punti, insomma non puoi vedere un giocatore che ha messo forse due punti solo, adesso comunque andiamo a vedere. Anche Melly non ha avuto una serata tra le più brillanti, ma comunque canestre tentati un 29 su 56 per noi contro il 29 su 57 per loro, quindi un percentuale totale dei tiri realizzati del 51.8, tiri da 2, 58.8 e 54.3, tiri da 3, 40 contro il 45 loro, tiri liberi tentati, noi il 100%, 7 tiri, ma capiamo che 7 tiri liberi in 40 minuti siano veramente una miseria e contro i 12 loro, 12 cominciano già a essere una cifra, insomma, media, mediocre nel senso di media, non mediocre nel senso di negativa. La voce invece che però ci ha sicuramente condizionato tantissimo la partita e che ha deciso molto, al di là di quello che abbiamo detto del time out, eccetera, i rimbalzi, rimbalzi in attacco 14 a 4, rimbalzi in difesa 23 a 12, per un totale di 37 a 16. Ora, se non riesci a contrastare i rimbalzisti avversari, in primo luogo Fall che ci ha fatto a fettine, soprattutto nella prima parte di partita, ma anche nella seconda, perché comunque il cambio di Fall è un certo Milutinov e non esattamente il mio vicino di casa che non gioca a basket e che è alto un metro e venti. Non è vero che è alto un metro e venti, ma per fare il paragone. Capiamo che anche il miglior Melli, il miglior Voitman, il miglior Heinz non potranno niente di fronte a questi due giocatori Fall che è alto un metro, due metri e novanta e quindi è difficilmente contrastabile, a meno di trovarsi un altro giocatore di pari stazza e pari livello e pari prestanza fisica. Anche lo stesso Poitres non ha saputo contrastare nulla, taglia fuori in zero. Erano sempre loro in 500 lì sotto e noi sembravamo veramente di direttanti allo sbaraglio. E questo sicuramente è il dato che ci ha più fatto male, ci ha più messo in difficoltà e ci ha più portato verso la sconfitta. assist 22 a 21, quindi in realtà pali, stoppate 4 a 5 per noi, palle perse noi veramente poche, 10 contro le 17 loro, palle rubate 11 nostre contro le 3 loro e falli personali 17 a 16, quindi come abbiamo detto poche volte siamo andati in lunetta. Ma andando a vedere giocatore per giocatore, Peters con 16 punti, Flaccadori 14 punti, quindi dicevo prima l'ottima prova degli italiani tra cui Flaccadori, Napier che 14 punti, 3 rimbalzi e 5 assist in 30 minuti ha sicuramente fatto abbastanza bene ieri sera, meglio che sabato in campionato contro Brescia e diciamo un po' ricalca la prima prova che aveva giocato contro Cremona in campionato pur con le dovute differenze tra campionato e Eurolega. Mirutinov con 13 punti, 5 rimbalzi e un assist, ecco, tra Mirutinov e Fall, 5 più 6, 11 rimbalzi semplicemente in 2, quindi di che cosa vogliamo parlare? Di che cosa vogliamo parlare? Flaccadori non è il suo compito prendere rimbalzi e quindi 0, Napier in realtà ne ha presi 3, Tonut 2, 13 punti ieri sera Tonut molto bene, incisivo sui due lati del campo, Bortolani 11 punti con 1 rimbalzo, le sue triple sicuramente hanno dato una grande mano al recupero dell'Olimpia, William Goss ex Real Madrid, quindi non è esattamente il primo che passa per strada, 10 punti, 5 rimbalzi e un assist, Ainz che sicuramente ha dato un impatto molto positivo alla partita, perché quando è entrato all'inizio nel quintetto di avvio il titolare 5 era Kamagate, poi c'era Voitman, poi c'era Melli e poi non mi ricordo gli altri. Ainz sicuramente è entrato, ha giocato addirittura 21 minuti e per tutti i 21 minuti, nonostante abbia commesso un antisportivo su Milutinov, sicuramente la sua prova è stata davvero maiuscola. Un'altra ottima prova di questa parte di stagione che ci sta fornendo Sir Kyle Ainz. Ecco, diciamo che ce ne vorremmo un altro come lui e se Kamagate sta crescendo nella sua ombra, questo gli farà semplicemente bene e Poitras però non è ancora ai livelli e dal punto di vista difensivo non è così efficace. Laren Sakis che ci ha rotto le scatole quanto bassa con 8 punti, 2 tripli a fila, dopodiché ha commesso il terzo fallo quindi per un po' non l'abbiamo più visto. World Cup anche lui, spina nel fianco con 8 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Questo è un grande giocatore, un gran bel giocatore, uno che difficilmente sbaglia quando ha un tiro libero, un tiro da lontano aperto, ecco difficilmente lui sbaglia. Kanan anche lui, un giocatore che a me personalmente piace molto, con 6 punti. Melli dicevamo della prova non brillantissima ma è umano, non può fare 90 partite all'anno sempre con votazione di 9 in pagella. Quindi insomma lo possiamo capire, lo possiamo accettare più che altro che in attacco infatti solo 4 punti, qualche cosa in difesa di buono l'ha fatto comunque, commettendo però purtroppo anche degli errori talvolta decisivi, talvolta molto pesanti ecco nell'economia della partita. poi trassa anche lui 4 punti, Voigtman ieri sera male, soprattutto all'inizio molto molto male secondo me. Ha giocato 22 minuti, all peggio che peggio, esatto, solo i 2 punti in 24 minuti, 3 rimbalzi e un assist. Ecco forse era meglio farlo giocare un po' meno una volta che abbiamo appurato che non era serata. Perché? Perché abbiamo visto delle cose che non sono da all e adesso sono 2-3 partite che è in costante calo. Mentre aveva fatto qualche settimana fa delle prove piuttosto convincenti. Forse a Barcellona, adesso non mi ricordo perché qua le partite sono talmente tante, talmente ravvicinate che i ricordi si sovrappongono. Dopodiché McKissick 2 punti, Papa Nicolau 2 punti, Petrushev 2 punti e Kamakate con un solo assist in 3 minuti e 52. Ecco. Questo è il tabellino di ieri sera, andando un attimino a leggere le parole in commento, in conferenza post partita, non presenziata da Ettore Messina che aveva presentato una lieve in disposizione, quindi un lieve malessere, quindi sostituito da Milan Tomic, che ha passato 13 anni all'Olimpia Cos, quindi era sicuramente una divinità al Pireo. Quindi Tomic ha riferito che, dunque, credo sia stata una bella partita. Noi abbiamo combattuto in una situazione in cui soffriamo a causa dei tanti infortuni. Abbiamo giocato di squadra ed è stata una partita positiva. Siamo stati bravi a tornare in parità nel finale, ma in quel momento noi abbiamo sbagliato un paio di tiri. Esatto, tipo la tripla di Thunut che dicevo all'inizio. Mentre loro hanno segnato un canesso da tre con William Boss e è stato quello che ha deciso la partita. Sì, vabbè, ok. Vogliamo ridurlo a questo? No, perché comunque c'è anche altro, tipo il time out, tipo la scelta di accontentarsi. Ecco, nello sport, secondo me, non bisogna mai accontentarsi, a meno che non sei in svantaggio di 100 a 0, devi preservare i tuoi giocatori e allora ne possiamo parlare. Ma ieri sera veramente, nella situazione in cui eravamo arrivati fin lì, non c'era niente da preservare e si doveva giocare fino all'ultimo secondo. Mi sono persa per sala, quindi mi sono dimenticata la classifica, giusto per andare a dare uno sguardo, che però vale quanto vale perché la diciottesima giornata si completa stasera con il Real Madrid che giocherà il derby questa sera a Barcellona. La Virtus che accoglie in casa il Bayern Monaco. Il Maccabi Tel Aviv che, no, ieri sera ha già giocato, quindi ha vinto contro Monaco, 93-83. Il Panathinaikos che va a Basconia questa sera. L'Olympiakos va bene, Monaco, ok. Partizan ha giocato contro Lione e ovviamente ha vinto, povero Lione. Si dice che la società voglia uscire dal contratto con Pozzeco, quindi la sua avventura in terra francese è durata veramente poco, mi dispiace per lui. Ha vinto 90-79. Il Fener che ha riportato la prima sconfitta dall'arrivo di Iasi Kempcius, quindi ha perso contro la Stella Rossa in casa, quindi a Istanbul. Ed è un risultato sicuramente per quanto mi riguarda sorprendente. Valencia giocherà stasera contro l'Efes in casa, Basconia, l'abbiamo detto, riceve il Pana, Bayern va a Bologna questa sera, ok. Milano che quindi si ritrova 14esima in classifica al momento. È vero che dopo di lei, quelli dopo di lei hanno già giocato tutti, quindi Stella Rossa, Zalgiris che ha vinto con la prima panchina di Trinchieri, che è stata super positiva perché ha vinto contro l'Alba Berlino, che è sempre penultima con 3-15 e Lione Villiorban con 2-16. Sono particolarmente contenta che Kaunas abbia vinto la sua partita ieri sera con l'esordio vincente di coach Trinchieri e quindi bisogna vedere quelle che faranno, che cosa faranno le squadre che sono davanti a Milano, quindi eventualmente l'Efes che ha lo stesso, cioè almeno adesso non più perché Milano non ha sconfitto in più, però 7-10 dell'Efes vediamo che cosa succede. Quindi vabbè la classifica non segnala particolari cambiamenti, siamo sempre sulle parti medio, no non medio, sulle parti basse della classifica purtroppo. Abbiamo una settimana di doppio turno, ieri sera l'abbiamo già affrontato, il turno di ieri sera l'abbiamo affrontato, torniamo a casa con una sconfitta che vabbè lascia ben sperare, ma sono due o tre partite che continuiamo a dire lascia ben sperare, però intanto le partite vanno e se noi continuiamo a perdere col cavolo che ci mettiamo in posizione ottimale o comunque utile per provare almeno ad avvicinare i play in, perché i play off diretti credo che sia abbastanza un'utopia, però magari essere lì nei pressi dei play in che sono a, dunque i play in sono a, dunque 10, ecco sono già a tre vittorie, quindi cominciano a essere già un po' tantine considerando questo olimpia, ricordiamo ancora una volta che abbiamo fuori Miro, abbiamo fuori Maudolò, abbiamo fuori Shields, abbiamo fuori Billy Baron che vabbè non si sa, non so dire se è fuori perché sta male, se è fuori perché non è in condizioni ieri sera, però in panchina c'era Pippo Ricci, quindi non è stato utilizzato, vero, però vuol dire che evidentemente era utilizzabile o semplicemente per far numero perché c'erano altri fuori gioco, non lo so, lo scopriremo venerdì, venerdì sera 20 e 30 al forum, riceveremo Bayern e il Bayern Monaco, sperando di fare una partita migliore, quantomeno al finale, rispetto a quella fatta a Monaco di Baviera qualche settimana fa, quindi di non prendere la tripla sulla sirena e di non andare ai supplementari all'extra time per poi perdere miserabilmente, no speriamo di no, quindi io vi do appuntamento a venerdì sera alle 20 e 30 per la diretta inerente a Olimpia Bayern Monaco, fermo allestando che poi ci sarà anche la Virtus questa sera, ci sarà la Virtus ancora venerdì sera alle 19 mi pare contro l'Alba Berlino, quindi insomma ci saranno molti e altri appuntamenti di basket, che dire, prendiamoci il buono che abbiamo visto ieri sera, il carattere sicuramente, la voglia di provare a reagire e il fatto di aver colmato un vantaggio così, uno svantaggio così ampio con le forze a disposizione, quindi con gli assenti, i nomi pesanti che ho appena citato, sicuramente questo fa ben sperare. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me, vi ricordo di nuovo di iscrivervi al canale, attraverrà la campanellina per rimanere sempre con Olimpia Improvvisa Passione, con le dirette dell'Olimpia, della Virtus, calcio, i motori per adesso sono sospesi, quindi comunque tutte le altre proposte sportive che riceverete dal canale stesso. Vi ringrazio nuovamente, vi auguro di avere sempre fiducia nell'Olimpia, perché alla fine ieri sera, quando eravamo sul meno 15 c'era chi diceva no no è già persa, no no è andata. Io ho detto io voglio continuare a sperarci e francamente insomma almeno al pareggio ci siamo arrivati. Poi è andata come è andata, pazienza, è andata così, testa a venerdì, Olimpia, Bayern Monaco 20 e 30, stessa ora, stesso canale, alla prossima, grazie, ciao!